Nella settimana dal 15 al 21 agosto si registra un decremento dei nuovi casi con un'incidenza pari a 14.809, meno 27%, e un valore cumulativo di 308 su 100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina, Trapani e Agrigento. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 70 e i 79 anni, tra i 60 e i 69 anni e tra i 80 e i 89 anni. Anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione. Più di metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano al sistema non vaccinati. I dati relativi alla campagna vaccinale fanno riferimento al periodo dal 17 al 23 agosto. Nella fascia d'età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 26,45% del target regionale. Hanno completato il ciclo primario vaccinale 70.120 bambini, pari al 22,75%. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,71%, mentre ha completato il ciclo primario l'89,39% del target regionale. I vaccinati con terza dose sono 2.759.712, pari al 72,28% degli aventi diritto. Sono 1.058.498, i cittadini che hanno maturato il diritto di ricevere la terza dose non l'hanno ancora effettuata. Intanto, dal primo marzo è iniziata la somministrazione della quarta dose nei soggetti over 12, con marcata compromissione della risposta immunitaria, e che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno 120 giorni. Dal 13 luglio è stata avviata la vaccinazione della quarta dose, tutti over 60, e alle persone ad elevata fragilità over 12 anni, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo, terza dose, o dall'ultima infezione successiva al richiamo, data del test diagnostico positivo. Dal primo marzo sono state effettuate 98.159 somministrazioni di quarta dose, di cui 45.979 a soggetti over 80. di cui si accanta.